Massimiliano Sini Siamo a Porto di Porto di Giorgio, come vedete dietro stiamo per salvare, per andare a pescare il pesce azzurro Lo spot parlerà appunto del nostro mare, del nostro pesce e dobbiamo riqualificare le nostre qualità del territorio Quindi da qui partiremo, è rivolto non solo le persone adulte ma anche i ragazzi Da qui partiremo per far capire loro quanto può essere buono il pesce, quindi da tutte le parti pianolettiche, nutrizionali del pesce azzurro Ma non solo, perché verremo aiutati anche dalla scuola alberghiera perché si riescano a fare dei piatti molto belli Non solo dal punto di vista del gusto ma anche visivo, quindi vi dovete solamente vedere la scuola Una provocazione, una risposta con le eccellenze locali alle star milionarie di Hollywood No diciamo sì, la star milionaria e la star meno milionaria No diciamo che dobbiamo dar atto alla regione che ha puntato sul territorio Ha capito che deve puntare sul turismo, ambiente, agricoltura e quindi anche la pesca Quindi ha voluto puntare con Destino Offman a livello mondiale, a livello nazionale Quindi con me per quanto riguarda il territorio e tutte le eccellenze Speriamo di avere magari anche più successo, perché no? Approfittiamo della sua disponibilità, qualche anticipazione sullo spot? Vabbè me la dico, allora praticamente lo spot sarà, ci sarà questo ragazzo che viene catapultato da una città stressante alla barca Lì dovrà aiutare i pescatori a pescare, poi ritorna comunque con una serie di cose, ritornerà nella città E capisci invece quanto è bello stare in mare aperto e anche se questo lavoro fisico è duro Ma si sta bene mentalmente rispetto magari al lavoro frenetico della città E poi ci sarà invece un altro servizio dedicato ai più piccoli, ai ragazzi Dove io entrerò nelle case di tutti i giovani Loro ovviamente vogliono cambiare canale, vorrebbero giocare ai videogiochi Ma non possono perché il telecomando della casa ce l'ho io Quindi niente, dovete aspettare lo spot per vederlo Massimiliano Sini su OpsTV, grazie e buon lavoro Grazie a voi